Vorrei leggervi alcuni passi tratti da due importanti testi della modernità che sono i saggi di Montaigne, grande opera letteraria oltre che filosofica, e le lettere persiane di Montesquieu. Questi due testi hanno un punto in comune, sono dei testi critici, cioè svolgono una critica all'ideologia e in particolare svolgono una critica verso un particolare tipo di ideologia. L'ideologia è ciò che va a naturalizzare uno stato di cose che tuttavia naturale non è. Ecco, la critica all'ideologia che portano avanti Montesquieu e Montaigne è rivolta a quel particolare tipo di ideologia che mira a far passare come naturali, buoni, giusti e superiori gli usi e i costumi della propria cultura. Questa tesi ideologica che viene criticata in modo molto chiaro da Montaigne e da Montesquieu prende il nome di etnocentrismo, no? L'etnocentrismo è quell'atteggiamento che appunto ideologicamente sostiene che il proprio gruppo sociale è considerato il centro di ogni cosa e che quindi ogni altra cultura va sempre vista a partire dalla propria cultura, cioè da una cultura esterna rispetto a quella che viene giudicata. Ora, per capire meglio questo discorso bisogna partire dalla definizione di cultura. Che cos'è la cultura? Ma la cultura è un insieme di regole, di simboli, di valori condivisi tra tutti gli appartenenti e tutti gli uomini che appartengono ad una certa cultura. La cultura è insomma ciò che tiene insieme di uomini mediante simboli, no? Dal proposito c'è una famosissima definizione del termine cultura, una definizione che risale allontano 1871 che è molto cara agli antropologi culturali. Questa definizione di cultura che è stata proposta da un antropologo britannico dell'Ottocento dice così la cultura presa nel suo significato etnografico più ampio è quell'insieme che include conoscenze, credenze, arte, morale, legge, costume e ogni altra capacità e usanza acquisita dall'uomo come appartenente a una società. Quindi la cultura è un insieme di simboli condivisi. La cultura infatti va sempre considerata in termini olistici. Per comprendere un aspetto culturale, che ne so, la religione di una certa cultura, è necessario sempre intenderla nel contesto totale di quella cultura. Nel senso che in qualche modo ogni manifestazione simbolica portata avanti da una certa cultura ha dentro di sé tutte le altre manifestazioni simboliche, nel suo inconscio o anche consciamente. Si pensa all'uomo occidentale quando tira fuori una banconota e per pagare per pagare qualcuno appunto per ottenere dei beni o dei servizi in cambio, in quella banconota c'è molto, non c'è solo un simbolo, lo scambio economico, ma c'è una religione, una storia, una cultura. E la cosa importante è questa, per comprendere una cultura o un fenomeno culturale, appunto, bisogna sempre metterlo nel contesto simbolico, nell'orizzonte simbolico di quella cultura di appartenenza. Questo è un po' anche il lavoro che fa l'antropologo culturale, no? Da un lato l'antropologo culturale deve essere uno scienziato, quindi deve studiare da fuori i fenomeni culturali. Ma al contempo studiare da fuori dei fenomeni culturali significa sempre cercare di capirli da dentro, no? Perché allora i fenomeni culturali, se sono vissuti da dentro, sono vissuti sempre in modo passivo, conformistico, appunto ideologico, no? Da dentro una certa cultura, delle certe operazioni simboliche sono sempre assunte come naturali, necessarie. È ovvio che sia così. Al contempo, però, vedere semplicemente da fuori delle pratiche culturali significa si guardarle in modo distaccato, ma tanto distaccato da non riuscire a capirle. Perché? Perché se si guarda solo da fuori una cultura, si cade appunto nell'etnocentrismo. Appunto, se io guardo da fuori delle pratiche culturali di una cultura estranea, adotterò per comprendere queste pratiche culturali di una cultura esterna che guardo da fuori, adotterò i miei schemi culturali. Ma adottando i miei schemi culturali non riuscirò mai davvero a comprendere le pratiche poste in atto all'interno di un'altra cultura. Le pratiche poste in atto da un'altra cultura possono essere comprese solo se ci immergiamo in quella cultura stessa. Altrimenti, se utilizziamo le nostre categorie culturali per interpretare un'altra cultura, cadiamo nell'etnocentrismo. E l'etnocentrismo è ciò che fa sì che, naturalizzando le nostre categorie culturali, le consideriamo migliori. La mia professoressa di antropologia culturale all'università ci diceva sempre, volete capire che cos'è l'etnocentrismo? Semplice, per l'etnocentrismo l'altro puzza sempre di più di noi, mangia sempre cose più puzzolenti, ha un odore della pelle sempre più puzzolente del nostro. In realtà, noi naturalmente intendiamo come cattivo odore, come sgradevole tutto ciò che è esterno al nostro orizzonte culturale, oppure lo riteniamo più stupido, più assurdo. Non ne comprendiamo le sfumature, ma appiattiamo invece il diverso alle nostre categorie culturali, e per questo perdiamo il diverso. Un esempio molto noto a tal proposito l'ha fatto il grande antropologo culturale britannico Evans Pritchard. In un suo famosissimo studio aveva analizzato, aveva studiato le pratiche simboliche, e quindi le azioni, di una popolazione del sud meridionale, gli azzande. Ora, viste da fuori, viste con gli occhi di un britannico, di un occidentale, nella prima metà del Novecento, quindi il colonialismo era anche ancora abbastanza, insomma, una cosa radicata, ebbene, vista con le categorie culturali di un uomo degli anni Trenta, di un britannico degli anni Trenta, queste pratiche simboliche di questa popolazione del sud meridionale apparivano totalmente assurde, inutili, barbare. Ecco qui, ciò che è altro da noi è sempre barbaro, noi siamo i veri uomini, le altre culture invece sono uomini a metà, camminano con la testa in giù, qualcuno dice. No, appunto, queste pratiche simboliche degli azzande sono magia, sono stregoneria, qualcosa di barbaro. In realtà, se noi adottiamo uno sguardo non più etico, cioè da fuori, ma adottiamo uno sguardo emico, però critico, cioè guardiamo da dentro quelle pratiche culturali, senza appiattirle alle nostre pratiche culturali, ma viviamo da dentro quella società, quelle pratiche culturali, ma con senso critico, cioè scientifico, cioè se ci immergiamo in una cultura, riuscendo però anche a mantenerne scientificamente le distanze, facendo ciò scopriamo che queste pratiche culturali, che viste da fuori, su un piano etnocentrico, ci sembravano del tutto barbare e inutili, viste nel loro rapporto totale con i simboli e le pratiche di quella cultura, si scopre che queste pratiche magiche erano in realtà estremamente raffinate, complesse, razionali, ma questa complessità, questo senso, può essere compreso solo all'interno di una cultura, non lo vuoi comprendere se guardi questa cultura da fuori con altre categorie. Quindi ecco, da un lato le culture sono incommensurabili, una pratica può essere compresa solo all'interno di un insieme di simboli entro i quali è immersa quella pratica, una certa pratica simbolica di una certa cultura non può essere compresa mediante un orizzonte simbolico di una cultura altra. Al contempo, però, le culture, pur essendo incommensurabili, per questa ragione, sono comparabili, in quanto la cultura è sempre fatta da uomini che si relazionano fra di loro, che condividono delle regole. Ecco allora perché l'antropologo culturale può fare il suo lavoro? Da un lato può fare il suo lavoro perché tutte le culture sono fatte da uomini e quindi le possiamo comprendere, ma al contempo per fare il suo lavoro deve abbandonare l'ideologia e deve immergersi, ma con sguardo critico, entro le culture altrui. Mentre l'etnocentrico è ideologico, l'etnocentrismo pretende di appiattire una certa cultura su delle categorie culturali esterne a quella cultura considerate superiori naturali. Ecco allora che l'uomo occidentale può guardare le pratiche magiche degli azzande e giudicarle a partire dal background simbolico proprio dell'occidente. Perché? Perché quel simbolismo occidentale è considerato l'unico vero e oggettivo e superiore sul quale tutti gli altri si devono adeguare. Il modello in realtà non è così, le culture sono incommensurabili, sono rapporti simbolici che possono essere compresi solo all'interno di quella cultura. Non posso utilizzare un certo orizzonte simbolico per giudicare un'altra cultura, però appunto al contempo posso immergermi in un'altra cultura e comprenderla con il tempo, proprio perché le culture sono sempre fatte dagli uomini. Al contempo ideologico non è solo l'atteggiamento etnocentrico che erige a cultura vera solamente la propria, appiattendo le altre culture a momenti imperfetti della propria cultura. Ideologico è invece anche l'atteggiamento di chi è attraversato dalla propria cultura e non si rende conto delle contraddizioni, del conformismo mediante il quale si abbracciano tutti i simboli che sono stati prodotti e che ci attraversano nella nostra cultura di provenienza. L'antropologo culturale fa questa mossa, prende le distanze da una certa cultura, cioè la guarda con occhio critico, non più ideologico, ma lo fa rimanendo all'interno di quella cultura, perché appunto per capire un certo simbolo bisogna avere uno sguardo olistico, metterlo nella concretezza di un certo orizzonte simbolico determinato, che è quello che l'ha sviluppato. C'era Weber che diceva che gli uomini sviluppano tutto un orizzonte simbolico, cioè appunto una rete di simboli e poi in questa rete di simboli gli uomini rimangono impigliati. Ecco l'antropologo culturale in qualche modo scardina ciò, cioè vuole comprendere questa rete di simboli stando nella concretezza di una cultura, ma vuole farlo in modo non ideologico, cioè senza rimanerci impigliato. Questo movimento è proprio una critica dell'ideologia, cioè comprendere un orizzonte simbolico senza però considerarlo naturale. Ecco allora che per questa via possiamo ritornare a Montaigne-Montesquieu. Questi due autori fanno proprio questo esercizio antropologico di critica all'ideologia. Critica all'ideologia non significa negare in quanto ideologico un certo apparato simbolico, ogni apparato simbolico è ideologico, ma significa considerarlo come non naturale. Ecco allora che scrive Montaigne nei saggi, in particolare in un saggio che si intitola del costume e del non cambiare facilmente una legge ricevuta. Le leggi ricevute sono considerate come naturali. Questa idea di naturalezza, scrive Montaigne, è in verità una maestra di scuola imperiosa e ingannatrice. Considerare i propri costumi come naturali e quindi superiori agli altri è qualcosa che ci conforta, ci conforta. In realtà però questi sono insegnamenti di una maestra imperiosa e ingannatrice. L'ideologia potremmo dire. Ci si manifesta con un viso furioso e tirannico sul quale noi non siamo più liberi neppure di alzare gli occhi. La vediamo ogni momento forzare le regole di natura. No, allora prima per tranquillizzarci pensiamo che sia naturale tutto ciò che ci è consueto. Dopo di ciò il passo è molto breve per arrivare all'etnocentrismo. Una volta che consideri tutto ciò che è consueto, che è conformismo naturale, siamo subito indotti a pensare che tutto ciò che differisce dal consueto, dalla nostra cultura, sia innaturale e quindi sia inferiore. La realtà è, scrive Montaigne, che ognuno definisce barbaro ciò che non è conforme ai propri usi. E sarà quello che dirà poi anche il grande antropologo Levi-Strauss, no? Che diceva il barbaro è anzitutto l'uomo che crede alla barbarie. Ecco, questo discorso che fa Montaigne, che aveva in mente anzitutto gli indigeni delle Americhe appunto, viene ripreso da Montesquieu in quel testo in qualche modo satirico che sono le lettere persiane. Qui Montesquieu immagina dei persiani in visita a Parigi. I persiani appunto arrivano a Parigi, hanno uno sguardo etico, cioè esterno, rispetto alle pratiche culturali e quindi giudicano in modo esterno e quindi antidogmatico, anti-ideologico. Quegli orizzonti simbolici che invece dai pareggini sono vissuti in modo del tutto conformistico, naturale, ideologico. E come descrivono appunto questi immaginari persiani di Montesquieu Parigi? Beh, scrivono, il re di Francia è il principe più potente d'Europa, non possiede miniere d'oro come il re di Spagna a suo vicino, ma ha più ricchezze di lui perché le ricava dalla vanità dei suoi sudditi. Più inesauribile delle miniere. D'altronde questo re è un gran mago, esercita il suo potere anche sullo spirito dei suoi sudditi, li fa pensare come vuole. Ecco qui ancora l'ideologia. Se nel suo tesoro c'è solo un milione di scudi e gliene occorrono due, gli basta convincerli che uno scudo ne vale due ed essi ci credono. Ecco qui l'ideologia, no? L'ideologia della Parigi che è smascherata da chi sta fuori. Quando però chi sta fuori ricade nell'ideologia? Quando crede che le proprie pratiche culturali con le quali che gli permettono di giudicare da un punto di vista esterno le pratiche culturali dei parigini, in questo caso, siano superiori rispetto a quelle dei parigini. Qui c'è un ritorno all'ideologia, l'etnocentrismo. Noi poi continuano con Tegni. Quando ti dico di questo principe non deve stupirti. C'è un altro grande mago più potente di lui, il quale domina sul suo spirito non meno di quanto egli domini su quello degli altri. Questo mago, che si chiama Papa, ora gli fa credere che tre è uguale a uno, che il pane che mangia non è pane, che il vino non è vino e mille altre cose del genere. E poi, in modo davvero acuto, conclude Montesquieu, noi giudichiamo le cose sempre in base a un riferimento segreto a noi stessi. Non mi sorprende che i negri dipingano il diavolo di un candore abbagliante e i loro dei neri come il carbone. È stato detto molto bene che, se i triangoli si facessero un dio, gli darebbero tre lati. Certo che noi cadiamo sempre nell'ideologia. Anche il critico dell'ideologia, per comprendere, deve riferirsi a se stesso, deve avere dei paradigmi da considerare come naturali. Però il critico dell'ideologia sa che questi paradigmi naturali sono solo considerati tali. In questo modo può costruirsi delle reti simboliche, perché degli orizzonti simbolici condivisi si deve averli per vivere, ma queste reti simboliche non finiranno mai per prendere il sopravvento, cioè si servirà di queste reti simboliche senza tuttavia impigliarsi dentro esse.